Il sinodo come esperienza ecumenica, forse poco valorizzata, parla Frera Louise, priore della comunità di Tese, dove ogni anno arrivano migliaia di ragazzi da tutto il mondo per vivere un'esperienza di preghiera e fraternità, e lamenta poco interesse su una realtà che invece affascina e molto i giovani. Ascolto e accompagnamento rimangono le parole chiave della riflessione in corso in Vaticano, che sta delineando un modo di essere chiesa centrato sull'amicizia, concetto teologico oltre che evangelico. Una modalità, quella sinodale, che seppur nelle differenze, interessa anche gli osservatori esterni, come il pastore Marco Fornerone, valdese, abituato ad altre strutture sinodali, sorpreso dal clima e dalla sintonia sui temi affrontati. Dal mondo monastico arriva l'ultima provocazione, siamo testimoni e non postini, non dobbiamo solo pensare a redigere un documento, spiega padre Mauro Lepori, cistercenze, a cui il sinodo ha donato una coscienza risvegliata dalla testimonianza dei giovani martiri. La domanda di senso della vita che tutti i giovani portano in sé nei martiri è a fior di pelle, è sanguinante, questa domanda è una ferita sanguinante e questo penso che ci fa bene. Io so che non potrò più incontrare un giovane senza questa coscienza, senza questa esperienza di questi giorni. Emerge con prepotenza nell'aula sinodale anche il tema della presenza della Chiesa nel mondo digitale. Campione della rete, Monsignor David Bartimei Tenzer dall'Islanda. Premio simpatia per come ha saputo raccontare le insospettabili capacità informatiche dei padri sinodali e le sperimentazioni in internet per raggiungere i suoi giovani a 700 chilometri di distanza dalla capitale.